Allora, cara Eva, è finita una grandissima sfilata, un trionfo unico, devo dire. Infatti siamo felicissimi, questo fuoco, questa energia di questa sfilata è stata meravigliosa. Fiammeggiante, è vero, è stupito tutti quanti, i colori meravigliosi, lo stile inconfondibile. Sì, siamo partiti dalla donna, dal guardaroba vero della donna, che è il trench, il cappotto militare, il biker, che poi è una donna che lavora, una donna che decide cosa fa, una donna che sa quello che vuole, per poi la sera sciogliersi degli abiti da sogno, perché vuole far sognare. Senti, perché questo tipo di colore, è molto forte abbiamo visto? Ma abbiamo bianco e nero, bianco e nero, rosso e blu, e un po' di cacchi, quindi molto discisa come palette. Qual è il futuro invece? Il futuro della moda, il futuro... Il futuro dello stile di Cavalli. È un'evoluzione di quello che abbiamo visto oggi. Ascolta, e un saluto a tutti i followers di Fashion News Magazine. Un bacio grande. Grazie a Eva Cavalli. Grazie a Eva Cavalli.